Bella ragazzi! Abbiamo iniziato, abbiamo appena scaricato Clash Royale e andremo a giocarci. Ok. Io ci ho già giocato prima. Ci gio... Quanto è facile vincere così. Vabbè, questo non lo raccontiamo come partito, ma questo era... Ah, Tori Royale. Ok. Dopo... Apriamo questo baone. Che carta abbiamo? Uh, tantissimi! Proviamo. Perfetto. Ce ne andiamo tutti a migliorare. Ok. Sì, lo so, lo so. Non c'è bisogno che mi fai la maniola. Ok. Adesso, siamo più forti, decisamente. La torre del Rea all'uno. Cosa vuoi fare? Perché? Sìììì. Poi abbiamo un mazzo velocissimo. scusate il casino solo che dobbiamo aspettare la pizza allora sempre lo stesso plan ok apriamo questo ok devo solo completare no vabbè finiamo questi 5 e poi facciamo due partite in arena 1 c'è tanta roba arena 1 oh bello il moschettiere perfetto abbiamo già una nuova carta adesso si lo so allora guarda gigante arcieri poi ti metto questo dietro e poi questo metto così da prendere tutto perfetto mettiamo altri arciori che in questo stadio fanno veramente il devasto perfetto altro baule ok adesso intanto aspettiamo lo sblocco perfetto c'è cosa vuoi di più della vita una carta epica tra l'altro tra l'altro quando è stato dell'ordine di scheletri per dire e di solito accusarla senza pensarci di volte ok allora mettiamo un bel gigante ok 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 poi ci danno c'è mi spettacolo che sta giocando la clash of clans cioè è vecchio ma a parte che io già sul tablet sono anche molto 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 più forte dico molto così perché è veramente l'altro non ha best è un'arena 11 vabbè un'arena 11 non è il massimo non è un'arena 11 però io gioco al paese per me ok ok andiamo a vedere ancora perché me non ha snu allora facciamo verze zero otto hit ok abbiamo anche 100 gemme ci sta vediamo lo shop no ogni volta si sblocca in arena 1 che pignolo c'è giuro ma che card si possono trovare e ora la sfida finale ok fanno tutti schifo qui allora facciamo un gigante arciate poi urda di scheletri perfetto poi lo mettiamo a moschettere ne ho credo che fa un botto di danni poi adesso con gli scheletri non sto facendo tutto lo sto facendo mettiamo anche un bel cavallo cavaliere non colpirtemi l'arce no l'arce 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 ok siamo fortissimi oh che domanda di cinghiali cosa vuoi di più della vita dal mini pecca mini pecca cioè fai scuoto il premio si 500 l'oro iniziamo subito a sbloccare non mi usa le frecce un grasso rinfoccato non mi è usata le sgherine pure e andiamo subito a giocare con qualcuno di tattico arriviamo già ok no raga se per me è facile sono già stato in arena 11 guarda non so giocare questo non so giocare guarda adesso lo so con il mini pecca anche se almeno non è che sia così il mini pecca non l'hanno non l'ho toccato mettiamo l'orga di spiro perfetto cioè in pratica non l'ho manco toccato ancora allora in quest'ultima partita ci salutiamo con un bel yale che ha i nostri stessi trofei perfetto secondo me questo è anche bravino no come non svegli allora allora andate bene beh sì qua l'ho fatto giuratore perfetto non facciamo giuratore guarda da quando le croce ah vabbè in arena 11 campi no non le croce non facciamo una cosa vinciamo bene il cavaliere bomba 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 bomba